In Italia sale la preoccupazione. L'ultimo dato riscontrato in merito ai contagi da coronavirus parla di un'impennata che non si registrava dal 2 maggio, più 1733. In Molise però l'ultima trascorsa è stata una giornata di tregua. Non ci sono nuovi casi, anzi ci sono tre guariti, tutti di Campobasso. Uno riferimento del cluster Venezuela, due del cluster Grecia. Sono aumentati i tamponi processati. Molise è 334, così come a livello nazionale più di 113.000. Gli attualmente positivi in tutta la regione sono 75. È stabile il numero dei ricoverati nel reparto di malattie infettive del Cardarelli, sono tre. Gli altri contagiati risultano asintomatici e isolati a domicilio. In quarantena 116 persone. L'attenzione comunque resta molto alta. Proseguono le indagini sui rientrati dalle vacanze e gli appelli delle autorità sanitarie a mantenere atteggiamenti cauti.